Buongiorno e buona domenica dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. La statale 1 Aurelia è chiusa in direzione nord per un incidente avvenuto al chilometro 355-800 all'altezza di Viareggio. In A11 per lavori di pavimentazione domani notte, in orario 22.6, sarà chiuso lo svincolo di Alto Pascio, in entrata in direzione Pisa e in uscita per chi proviene da Firenze. Sulla strada provinciale 15 Lucchese-Romana fino a domani, in orario 8.18, senso unico alternato per restringimento di carreggiata al chilometro 6.700 nel comune di Fucecchio. A Firenze in Viale Amendola ha chiuso il controviale tra Viagiotto e il numero civico 48 fino al 15 settembre. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!